gentili lettori ben arrivati questo è fumetti bonelli il podcast ufficiale di sergio bonelli editore io sono alberto cassani e con me virtualmente ci sono davide barzi e francesco destena che sono gli autori di il naso di lombroso ciao a tutte due buongiorno e grazie dell'invito ciao ciao a tutti e grazie dell'invito no grazie a voi per avere accettato il nostro e per dedicarci un po del vostro tempo vorrei partire con una anzi due verità assolute che dobbiamo assolutamente dire subito all'inizio allora il naso di lombroso è il vostro secondo libro con protagonista cesare lombroso però si può leggere assolutamente anche da solo si può leggere da solo tanto che tecnicamente addirittura a livello cronologico precede gli eventi del cuore di lombroso per cui tutto ciò che accade qui viene prima ciò che accade nel precedente volume giusto per creare la maggior confusione possibile però detto in sintesi sì potete leggerli in totale autonomia anche se chi poi li legge entrambi trova degli inside joke tra i due volumi visto che nella post faz una delle post fazioni davide annuncia la prossima uscita di un terzo volume voi avevate in mente una trilogia fin dall'inizio se vuoi posso mentire e dire assolutamente di sì o meglio diciamo che nella mia testa c'è sempre il germe di una serialità in ogni cosa che scrivo soprattutto quando i personaggi mi divertono e mi spiace abbandonarli dopo un centinaio di pagine detto questo no è nato come storia singola proprio perché è nata per le storie che erano proprio pensate per una botte via però già durante la lavorazione di il cuore di lombroso insomma tutto a noi dava il segnale e la voglia di proseguire fortunatamente questa nostra voglia è coincisa con quella della casa editrice e quindi siamo qui a parlare non solo del secondo ma anche di un terzo volume ecco ma in questo volume tra l'altro a un certo punto si vede un cartellone di un'opera teatrale anzi un'opera di marionette diretta dal maestro direttore d'orchestra gian maria contro che è il curatore di le storie per raccontare un po di dietro le quinte della redazione di via buonarroti in che modo gian maria ha guidato il vostro lavoro sia nel numero delle storie che poi è stato il cuore di lombroso che in questo che invece è nato direttamente per il settore librario si gian maria è stato è tuttora il nostro curatore editoriale in quanto partendo col numero del cuore di lombroso che è uscito sulla testata delle storie facevamo direttamente riferimento a gian maria appunto per la curatela del progetto adesso siamo usciti in libreria prima con una riproposizione in volume cartonato del cuore di lombroso e adesso con il secondo volume il naso c'è stata questa trovata geniale per me di davide di omaggiare comunque nel volume nel secondo volume gian maria contro che comunque potremmo definire il nostro padre spirituale no di questo di questo progetto una sorta di apprezzamento da parte nostra anche per la collaborazione che sei venuta a creare che sotto la direzione di gian maria è stata veramente molto proficua fin dal primo momento la coppiata barzi destena nasce grazie all'intuizione di gian maria contro perché il cuore di lombroso nasce come sceneggiatura che non ha ancora un disegnatore dopodiché al sulla sua scrivania arriva il portfoglio di francesco e gian maria mi dice questo secondo me è il disegnatore giusto per il tuo lavoro il lavoro dell'editor è anche questo è capire come un'alchimia un'amalgama possa funzionare in questo caso è stata un'intuizione potentissima tanto che l'abbiamo inserito in questo manifesto che è peraltro una revisione di un manifesto vero dell'ottocento della compagnia marionettistica che però abbiamo per aderenza al vero abbiamo dovuto riadattare per la compagnia lupi che era la compagnia marionettistica che operava sul territorio piemontese dell'epoca tra l'altro francesco il cuore di lombroso è stato il tuo primo lavoro bonelliano cioè per la sergio bonelli editore giusto come pubblicazione effettiva sì però io sono entrato in casa editrice prima con una storia breve di dampier che però è uscita poi anni dopo sul dampier color quindi effettivamente i lettori mi hanno conosciuto per la prima volta con il cuore ecco tra l'altro tu nella prefazione nei ringraziamenti che ci sono all'inizio del volume hai definito cesare lombroso il nostro criminologo di quartiere ora il cuore di lombroso è ambientato a torino però il naso di lombroso è parzialmente ambientato in toscana e nel prossimo libro come dice come scrive davide nella postfazione sarà parzialmente almeno parzialmente ambientato a milano quindi è un quartiere un po vasto il vostro è sì sarebbe più un quartiere mentale lo definirei nel senso che ormai è diventato una figura la quale io e davide siamo come dire affezionati nel senso che nei nostri discorsi nella nostra immaginazione è diventato una figura vicina anche perché in più in dare battute abbiamo sempre cercato di spiegare come anche se il punto di partenza è la figura realmente esistita di cesare lombroso nella lavorazione di questo progetto alla fine è diventato un personaggio a fumetti a sé per cui lo intendiamo come un personaggio a sé stante quasi che conosciamo confidenzialmente io e davide così amichevolmente lo sarebbe una sorta di nostro zio e quindi il nostro criminologo di quartiere sarebbe il nostro personaggio che è sempre accanto a noi durante questo lavoro qui insomma voi giustamente mettete in scena un personaggio diverso da quello che è stato cesare lombroso nella realtà ma nella realtà cesare lombroso è un personaggio è stato ed è ancora un personaggio molto controverso ora voglio chiedere soprattutto a davide ma poi parzialmente anche a francesco quanto vi siete posti il problema di fare un eroe tra virgolette di un personaggio insomma ancora oggi odiato da molti allora la l'idea di lavorare a fumetti succede a cesare lombroso mi nasce dalla lettura dell'atlante criminale di luigi garneri che ha come sottotitolo vita scriteriata di cesare lombroso quindi era proprio nel suo essere così controverso che io trovavo un potenziale narrativo enorme di cesare lombroso raccontare un eroe della patria senza sfumature e senza cadute quant'altro lo ritenevo molto meno interessante che non raccontare di questo personaggio che se da un lato ha comunque avuto delle intuizioni seppure non supportate da un metodo scientifico che in qualche modo hanno anticipato quella che sarebbe diventato una scienza la criminologia è chiaro che dall'altro appunto non avendo metodo ha tirato fuori una serie di teorie bislacche superate dalla storia in parte spernacchiate già all'epoca in vita mentre poi per altri lui era già un eroe e quindi questa cosa era molto divertente ed è divertente ogni volta prendere qualcuna di queste sue teorie e in ogni libro provare a metterle in discussione attraverso appunto questa nostra personalizzazione di lombroso diciamo che il cuore chiaramente verte sulle teorie più famose o famigerate e il personaggio ha un percorso in cui ragiona sulla sensatezza di queste cose e si confronta con gli altri sulla sensatezza di queste cose va anche poi detto che in realtà seppure non nel breve arco di tempo che noi abbiamo dato alla narrazione queste teorie lo stesso Cesare Lombroso le ha messe in discussione nel corso della sua esistenza proprio perché appunto avendo letture e studi assolutamente ondivaghi in diversi periodi della sua vita ha avuto approcci a diverse materie e in maniera molto diversa sul fatto che lui sia un personaggio controverso appunto non non mi ha creato grossi problemi diciamo così morali perché noi facciamo un'opera di fiction in cui prendiamo un contesto storico e in qualche modo lo pieghiamo a quello che vogliamo raccontare per cui non abbiamo fatto l'elegia delle teorie di Cesare Lombroso ma una credo e spero divertente almeno per noi che l'abbiamo realizzato ma anche per qualche lettore dai riscontri che abbiamo storia dentro la storia con la S maiuscola. C'è da dire anche poi che al di là della rivisitazione odierna dalle sue teorie per l'epoca lui comunque si inseriva in un contesto di positivismo ottocentesco ed era perfettamente in linea con le idee che potevano essere comuni per l'epoca. Chiaramente bisogna sempre attuare una sorta di distacco storico e a posteriori effettivamente molte sue convinzioni non avrebbero nessun peso oggi. Però allo stesso tempo almeno personalmente apprezzo molto questa sua spinta verso la conoscenza che spaziava in vari ambiti a volte anche non comunicanti fra loro che lui cercava però di incrociare attraverso le sue competenze che spesso non si ricorda il fatto che lui ha una formazione più umanistica che scientifica anche se poi ha operato nel mondo scientifico. Per cui è anche bislacca la sua formazione forse anche il motivo per cui lui è riuscito ad aprire nuove frontiere della conoscenza umana che poi magari altri studiosi successivamente hanno incanalato meglio di quello che aveva fatto lui. Però è anche vero appunto che lui ha dato la scintilla a molte discipline umane che prima di lui non esistevano e poi hanno dato adito a campi dello scibile umano che sono servite poi per il futuro. Salverei qualcosa che ha fatto e non sarei un totale detrattore del suo operato insomma. Al di là della figura di Cesare Lombroso la particolarità e lo diciamo per quei pochi che non hanno letto il cuore di Lombroso la particolarità dei vostri due libri è che incrociano appunto la figura di Cesare Lombroso con i personaggi di due romanzi per l'infanzia. Il primo era ovviamente cuore di Edmondo di Amici se questo il Pinocchio di Collodi ma il modo in cui si incrociano queste due storie è molto diversa nei due fumetti perché nel primo i personaggi del libro di De Amici sono adulti e sono personaggi reali che incontrano Lombroso. In questo invece Collodi alla fine diciamo che prende spunto per il suo romanzo da ciò che accade nel fumetto. Come mai avete cambiato questo questo modo di di costruire la storia? L'idea era proprio di divertirci cercando di cambiare ogni volta le premesse della narrazione. Per quanto in realtà noi avessimo fatto nel primo volume una sorta di episodio pilota credo di di poter dire in modestamente abbastanza efficace che poteva dare dei seguiti abbastanza discesa insomma e invece ci divertiva l'idea di rimettere ogni volta in discussione tutto e di partire con nuove premesse per cui se il primo idealmente era un sequel del romanzo di De Amici qui volevamo capire se potevano esistere dei personaggi degli avvenimenti e delle motivazioni nella storia dell'Italia del 1881 che avessero spinto Lorenzini a scrivere il Pinocchio. Per cui la storia avviene dopo la pubblicazione del primo episodio del Pinocchio e quindi a luglio dell'81 tra il primo e la pubblicazione del secondo episodio. L'enorme difficoltà avuta in partenza ma come tutte le grandi difficoltà e quella sfida che mette il sale ai narratori era di tenere assieme dei personaggi e degli eventi storici la storia d'Italia con una favola con degli elementi che hanno del sovrannaturale del fantastico degli animali che parlano delle metamorfosi e quindi tutta una serie di temi che con la realtà non hanno nulla a che fare. Speriamo che questa cosa sia riuscita. Tra l'altro ecco Francesco una delle differenze tra i due volumi è anche sui personaggi del romanzo che voi avete trasposto in fumetto perché con tutto il rispetto per Johnny Dorelli e Giuliana De Sio che sono stati tra gli interpreti dello sceneggiato degli anni 80 insomma i personaggi di cuore non sono particolarmente iconici. Quelli di Pinocchio invece sì. Tu in che modo hai affrontato queste due situazioni diverse? Erano due sfide diverse però con un tasso alto di difficoltà in entrambi i casi perché nel cuore effettivamente c'erano i ragazzini quindi era una materia abbastanza realistica da approcciare però dovevo rappresentarli cresciuti e quindi cercando comunque di rispettare un certo immaginario che ci poteva essere ovviamente non come quello che può essere il Pinocchio però avevano dei segni distintivi che Davide prontamente mi aveva comunque riportato in sceneggiatura per ogni personaggio che andavo a rappresentare come possono essere Garrone e Pranti e quindi la difficoltà lì era riportarli però ad un'età più adulta. In questo caso qui nel Naso la difficoltà forse anche maggiore è perché non erano personaggi realistici ma appunto tratti da una favola e io dovevo riportarli a una dimensione realistica proprio perché sono delle persone che Lombroso incrocerà nella sua storia e quindi io sono partito per forza di cose dal dato fantastico e quindi mi sono rivisto tutti i vari illustratori che si sono successi nelle varie edizioni di Pinocchio. Poi sono passato allo sceneggiato di Comencini e infine ho capito che però dovevo sempre dargli delle caratteristiche iconiche e quindi sono poi passato anche un po' di traverso dal film classico della Disney in particolare per Mangiafuoco anche perché poi il nostro Pinocchio del Naso di Lombroso non è il classico Pinocchio che ci potremmo aspettare e anzi lo definirei più un mostro franche Stainiano e quindi mi sono poi rifatto al Pinocchio di Comencini più che altro per raffigurare la marionetta che porteranno in giro per tutta la storia ma che non è poi effettivamente il vero Pinocchio che andremo a raccontare. E niente poi per gli altri personaggi magari ci sono anche suggerimenti che Davide con i dialoghi che sono più strizzatine d'occhio al lettore e non dovevo effettivamente cercare di ricalcare i personaggi della favola ma semplicemente suggerirli con qualche elemento anche solo di bestiario. Per ogni personaggio è stato un caso a senso. Ovviamente la cosa che mi ha più divertito è stata proprio la scena conclusiva. Ritroviamo tutti i personaggi assieme e lì mi sono divertito anche a dargli quel tocco favolistico che richiedeva insomma la storia di Pinocchio. Più che tratteggiare i vari elementi in sé ho fatto anche un lavoro di ricerca sul segno che effettivamente cambia dal rispetto al cuore di Lombroso. Ho cercato di essere, anche se sembra che sia più disegnato questo volume, in realtà c'è molto meno disegno e c'è molta più sintesi ragionata sul disegno in sé. Proprio perché guardando i vari illustratori di Pinocchio ho cercato un po' di ricalcare quel segno illustrativo che poi era più, si prestava meglio a un racconto favolistico e insomma spero di essere riuscito in queste imprese. Ecco, in questo volume hai cambiato il segno, però il primo fumetto era nato come albo da Edicola, quindi di un determinato formato. Questo invece nasce proprio fin dall'inizio come un volume da libreria. Quindi avete cambiato anche la scansione narrativa delle tavole? Sì, in questo caso qui proprio perché sapevamo che stavamo giocando su un campo differente dal dal formato regolare ed edicola. Già in sceneggiatura Davide mi ha permesso di spaziare di più con la tavola e in alcuni casi poi abbiamo delle soluzioni che effettivamente si prestavano per la libreria e che non avremmo mai potuto fare se fossimo rimasti sulla testata regolare. Questa cosa poi esploderà maggiormente nel terzo volume dove ci siamo proprio aperti totalmente, però già in questo secondo volume sarà anche una sorpresa per i lettori scoprire un po' come abbiamo cercato di modulare differentemente la gabbia bonelliana classica. Anche dal punto di vista della storia, oltre all'incrocio con il romanzo per l'infanzia da cui siete partiti, mi sembra che ci sia anche un utilizzo diverso di tutto il materiale tra virgolette storico attorno a Lombroso, nel senso che il cuore di Lombroso è probabilmente più un misteri, mentre invece qui avete, non dico perso tempo, però avete utilizzato molto più tempo, molto più tavole a parlare anche d'altro. Sì, ammetto che questa cosa del perdere tempo ci sono stati dei momenti piccoli, circostanziati in cui mi sono posto la questione, ma cosa sto facendo? Nel senso che mi capitava per magari una tavola, a volte addirittura una vignetta, di consultare interi volumi perché il dettaglio storico fosse vero, riconoscibile. Tanto è vero che in entrambi i volumi, e ovviamente sarà così anche nel terzo, nell'apparato redazionale delle pagine aggiuntive che ci sono state concesse dalla casa editrice, oltre a quelle a fumetti, c'è anche tutta la bibliografia di riferimento che, voglio dire, per quei fossero anche pochi lettori che hanno voglia di capire da dove abbiamo attinto o che interessati a un certo tipo di materia hanno voglia di leggersi in libro specifico, diventa comunque un valore aggiunto. Ecco, in questo secondo volume per la bibliografia ho idea che, per farcela stare in una pagina, hanno dovuto ridurre il fondo perché sennò non ci sarebbe stata. Ed è molto interessante perché se da un lato la figura di Lombroso è sì una nostra reinvenzione, ma abbiamo potuto maneggiare la biografia scritta dalla figlia Gina del padre, per cui alcune cose sono verosimili, alcune cose che Lombroso fa, soprattutto nella sua sfera familiare, sono proprio vicine a quello che era il suo atteggiamento di babbo e di intellettuale assieme. D'altro canto, sì, proprio per staccarci dal contesto favolistico, ma per impastare bene tutti gli elementi, era proprio la storia, ribadisco, con la S maiuscola, la nostra maestra che ci aiutava ad unire gli elementi. In particolar modo, allora questo è uno dei tanti territori complicati in cui ci addentriamo tutte le volte che parliamo di questo libro dove ci sono tutta una serie di colpi di scena per cui io adesso insomma devo sviare, camminare in maniera ondivaca senza far vedere dove sto andando, però in particolar modo che cos'era a Firenze, che cos'era la vita degli artigiani a Firenze e posso dirlo tanto estrapolato dal contesto e poco comprensibile, che cos'era la vita degli anarchici a Firenze all'interno delle strutture operai e lavorative, artigianali, è quell'elemento che appunto inizialmente l'ho studiato perché mi interessava capire la città alla fine dell'Ottocento e da lì però credo siamo riusciti a tirare fuori gli spunti che hanno dato una direzione precisa alla storia. Concludiamo parlando, se volete, se avete voglia, brevemente del prossimo libro, visto che l'avete citato. Non possiamo dire da quale romanzo per l'infanzia prenderete spunto, però in che modo incrocerete le sue vicende con quelle di Lombroso? Beh, abbiamo già detto che sarà ambientato a Milano. Possiamo dire il periodo e siamo nel 1908, quindi cambiamo nuovamente il periodo di vita di Cesare Lombroso e siamo a un anno dalla sua morte che sarà appunto nel 1909. Il tema che affronteremo nel terzo volume per mia somma gioia sarà lo spiritismo, che è un campo a cui si era avvicinato proprio nell'ultimo periodo della sua vita come fecero molti intellettuali del periodo. Ricordo i coniugi Curie, Arthur Conan Doyle, Schopenhauer anche, che lui cercava di trattare proprio come se fosse una materia scientifica da approfondire. e poi in realtà ci rimase insomma con entrambe le scape perché fu bellamente gabbato dalla medium di turno. Lascio la parola a Davide se vuole completare qualcosa altro. Allora, per dire senza dire, si può accennare al fatto che dei tre libri sarà sicuramente quello più metafumettistico e quindi quello che guarda più al linguaggio attraverso cui ci esprimiamo. Per cui, diciamo che tu facevi riferimento ai romanzi per l'infanzia, in questo caso potremmo, come dire, ampliare il tema alla letteratura per l'infanzia. Quindi potrebbe anche essere qualcosa che non ha a che fare con la forma romanzo. Sto sudando per la difficoltà dello spoiler che sento che mi soffia sul collo. Aggiungo che come per Il naso di Lombroso ritroveremo alcuni personaggi che erano presenti nel cuore, anche nel prossimo volume ritornerà qualche personaggio che abbiamo già visto precedentemente, lasciando sempre l'alone di mistero. Giustamente. Tra l'altro nella versione da libreria del cuore di Lombroso avete fatto quella che si chiama in gergo statunitense una retcon, perché avete cambiato un dialogo per giustificare ciò che succede nel secondo libro. Ah sì, semplicemente. Qui viene fuori davvero una delle cose, uno dei personaggi di cui siamo, mi viene da dire addirittura delle persone, come se fossero delle persone reali, anche se può non sembrare sano, una delle persone di cui ci siamo maggiormente innamorati, di cui siamo maggiormente soddisfatti, dei due libri, e cioè Silvia Bottini. Silvia Bottini è un personaggio che nel soggetto della prima storia, nel soggetto del cuore di Lombroso, avrebbe dovuto morire più o meno prima della metà della storia, ma scrivendola sostanzialmente lei ci ha detto no, no, guardate che io vorrei andare, ci terrei ad andare avanti, e quindi si è presa i suoi spazi, quasi la nostra insaputa, tanto che essendo il tema della questione femminile a fine ottocento, uno dei temi chiave di questo volume da poco uscito, Silvia si è veramente presa la scena non di rado rubandola a Cesare Lombroso, è veramente coprotagonista a tutti gli effetti, soltanto che nella storia da Edicola lei conosce nel 1889 Cesare Lombroso. Si incontra per la prima volta. Per la prima volta. Noi invece avevamo bisogno che loro si conoscessero già nel 1881. Di conseguenza appunto se uno confronta una tavola specifica poi ai lettori andarsela a scoprire nella versione da Edicola, nella versione da Liberia, c'è una piccola modifica che ci consente appunto di dire che loro si conoscevano già nel 1881 e ci ha consentito di lasciare andare a Briglia Sciolta, Silvia, e devo dire che dai primi riscontri che abbiamo sia dai lettori che dalle recensioni Silvia Bottini non piace solo a noi. Eh sì, eh sì. Va bene, Davide Barzi e Francesco Destena, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te, grazie alla Sergio Bonelli, editore. Ai nostri lettori invece diamo l'appuntamento alla prossima settimana. A presto. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli, editore, disponibile sulle maggiori piattaforme di ascolto. Per tutte le novità, seguiteci sul nostro sito ufficiale sergiobonelli.it. A presto. Grazie a tutti.